Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Leone e siamo qui oggi al giveaway per i 100 iscritti o anche giveaway di Natale. Oggi vi farò vedere come partecipare al mio giveaway. Dovete semplicemente commentare sotto questo video come vi sto facendo vedere adesso, partecipo, magari non tutto in maiuscolo, molto semplice. Potete scriverlo in minuscolo, potete scriverlo in corsivo, non so come si fa, però potete scriverlo come volete. L'importante è che pubblicate un commento con scritto partecipo, molto semplice. Dopo aver commentato qua sotto con partecipo, io estrarrò fra 10 giorni esatti, fatemi vedere, il 27, dai siamo più precisi, quindi 9 giorni. Estrarò fra 9 giorni esatti il vincitore del giveaway su random.org. Volete sapere i premi? I premi sono, per essere precisi, sono se parteciperete da 1 a 10 sarà 2,50€ di possibilità di giochi su Steam. Nel senso, io vi darò 2,50€ su Steam. Se vincete, vi direte voi che cosa volete, massimo 2,50€ e io vi darò un oggetto, un dono, a scelta vostra, da 2,50€, che sia un'arma di CSGO oppure che sia un videogioco scontato. Per questo ho aspettato a fare un Natale. Se invece sarete a partecipare dai 10 al 50, vincerete 5€ di giochi. Se invece sarete da 50 in su, cosa che non mi aspetto, però potrete benissimo esserlo, vi vincere ben 10€ di giochi. Quindi vi conviene far conoscere il mio canale ai amici. Ovviamente non vi dico spammate il mio canale, perché non voglio che spammate il mio canale a persone a cui non mi interessano, solo per il giveaway. Vorrei anzi che fate conoscere il mio canale a qualcuno che è interessato. Se avete qualche amico che non avete mai fatto conoscere il mio canale e li posso interessare i miei video, bene, questo è il momento per farlo. Il sito che utilizzerò sarà random.org, non mi faccio vedere qua. Prenderò soltanto in esame il commento con scritto partecipo. Quindi se commentate più volte, visto che random.org lo devo utilizzare in modo manuale, cioè estrarò un numero da 1 al numero di partecipanti, e quindi sarò io stesso, in un video, a controllare chi è estratto. Non varranno quindi commenti doppi, molto semplice. E anzi, ve lo dico, così potete scrivere tranquillamente quello che volete sotto il video, dopo un commento magari con un partecipo, quando volete voi. Questa è la regola per partecipare anche al mio giveaway. Spero che comunque vi piacerà vedere i miei video sul canale. Vi consiglio, quindi, beh, è soltanto per gli iscritti, quindi ovviamente è obbligatorio essere iscritti al canale, ma credo che tutti quelli che stavano guardando questo video lo siano. Se no, cosa state aspettando? Ditemi se il canale vi piace oppure no. Bene, qua da noi è tutto. Vi ricordo di mettere un pollice in su a questo giveaway che sto facendo per Natale e per i 100 iscritti. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Ciao! Ciao!